Buonasera a tutti i telespettatori TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Il mese di febbraio è iniziato con un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche in Emilia Romagna che ha portato precipitazioni soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia. La situazione peggiorerà ulteriormente nelle prossime ore. Tra la sera e la notte si attiveranno rovesci moderati sull'Emilia centro-occidentali che tenderanno poi a interessare il resto della regione nella giornata di venerdì 2 febbraio che vedrà quindi cieli grigi, precipitazioni inizialmente concentrate sui settori occidentali dell'Emilia ma poi le precipitazioni tenderanno a interessare anche i settori centrali durante la giornata mentre dal pomeriggio sera anche la Romagna dove si intensificheranno proprio tra la sera e la notte e soprattutto nelle prime ore della giornata di sabato. Per quanto riguarda la neve scenderà di quota e avremo fiocchi bianchi fin sotto i 1200 metri nella mattinata ma tra il pomeriggio e la sera la quota neve scenderà anche sotto gli 800-900 metri. Nelle prime ore di sabato non si esclude qualche nevicata a quote di bassa collina soprattutto tra Bolognese e Romagna prima di un miglioramento che giungerà nel pomeriggio di sabato a partire dai settori emiliani. Temperature in calo soprattutto in Appennino, valori massimi in pianura compresi tra 5 e 8 gradi, ventilazioni in aumento dai quadranti settentrionali. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.